Come ripensare la città di Pescara? Questo è il senso dell'appuntamento che si terrà venerdì 25 febbraio alle 16 a Palazzo di Città, la presenza fra gli altri del Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. L'evento, organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso, verterà sul ruolo della città nuova e su come, con i fondi del PNRR, trasformare il capoluogo adriatico. Si parlerà della linea ferroviaria Pescara-Roma, delle aree di risulta dell'ex COFA, del trasferimento del carcere San Donato, della destinazione dell'aeroporto militare e delle problematiche del fiume. La Pescara-Roma ferroviaria? Non è vero che purché si faccia va bene, come sostengono diciamo alcuni condonisti. Noi dobbiamo fare in modo che quest'opera sia la migliore possibile perché sono irripetibili queste opportunità. Non è vero che prima sbagliamo e poi dobbiamo impiegare i prossimi 30 anni a cercare di trovare rivoluzione. medio. Abbiamo già dei monumenti dell'errore in Abruzzo all'insegna di questo modo di procedere. Le aree di risulta non sono ripetibili a Pescara. Quelle sono 129 mila metri quadrati. Non possiamo sbagliare. Il Palazzo della Regione deve generare dove si fa un nuovo centro. Quando nel 1993 l'allora giunta pace, pace arrivò a fine 93 e anche l'allora giunta regionale e l'allora giunta provinciale concordarono che fosse il quartiere 3 la sede del Palazzo della Regione, era non perché si aveva in antipatia il centro di Pescara ma per fare in modo che il Palazzo della Regione portasse con sé riqualificazione, rigenerazione, portasse con sé un nuovo centro distante dal centro tradizionale della città. Così come noi abbiamo partite significative, la qualità del fiume, il sistema idrico della città di Pescara va ulteriormente potenziato con le risorse che ho lasciato io come Presidente della Regione, circa 50 milioni di euro al servizio di questo sistema urbano. Ma noi dobbiamo adesso dichiarare guerra ai problemi del fiume Pescara, arrivando a lavare l'acqua del fiume Pescara per fare in modo che torni un giacimento di Dio. Altra questione, spostiamo le carceri da Pescara, portiamole in un dove territoriale concordandolo con i comuni esterni. L'ex cofa può essere dato in concessione ai sensi della 241 almeno per 90 anni alle esigenze della città di Pescara. Noi lo abbiamo fatto per il manicomio di Teramo al servizio delle esigenze della città di Teramo.